Ultimi passaggi obbligati prima del battesimo vero e proprio dell'azienda unica dei trasporti e la Filt CGL invita la regione a puntare su dirigenti competenti per non commettere gli errori del passato. Mariano D'Amico Arriverà definitivamente in porto entro marzo dopo una serie di passaggi obbligati l'azienda unica dei trasporti abruzzesi. La fusione di Arpa, GTM e Sangritana collocherà la società regionale tra i primi otto vettori a livello nazionale. Oltre ai 1700 dipendenti, 78 milioni di capitale sociale, ricavi per 140 milioni, circa 1000 i mezzi in attività tra gomma e ferro. Numeri importanti accompagnati da professionalità e storia che la Filt CGL chiede di affidare ad una dirigenza competente. Dobbiamo assolutamente evitare che si ripercorrano gli errori del passato e che in modo particolare per una delle tre aziende ha comportato la chiusura del proprio bilancio in rosso per almeno 5 anni consecutivi. La regione, dice ancora Rolandi, deve dimostrare il coraggio di voler cambiare, tagliando sprechi, riorganizzando i servizi, migliorando qualità e quantità dell'offerta. Sì, perché le risorse che sono sempre inferiori non debbano rappresentare l'occasione per la regione per tagliare i servizi e per tagliare l'occupazione. Bisogna agire invece sugli sprechi, quegli sprechi che la Filt CGL ha sempre denunciato nel tempo. E poi biglietto unico regionale e riorganizzazione anche delle aziende private. Sono oltre 40, addirittura alcune sono anche a conduzione familiare che beneficiano di un vecchio sistema concessorio. E così poi c'è il problema del sistema tariffario. È stata approvata una legge importante di riforma del sistema tariffario nella precedente legislatura. Auspichiamo che quanto previsto dalla legge venga immediatamente portato a compimento.